Adesso parliamo di un argomento che forse, penserete appena lo nomino, non ha nulla a che fare con le buone notizie. Ma davvero la politica, perché di questo parleremo, non ha una buona notizia da darci? Si può cavare una buona notizia dalla politica? La risposta ai nostri esperti. E adesso li incontriamo. Benvenuto professore Alberto Gambino, un giurista, un amico delle buone notizie. Vediamo se anche oggi riesce a darci una buona notizia, perché l'argomento è ostico. La politica è una cosa sporca. Noi siamo in un'epoca in cui ci sono, sembrerebbe che ci siano dei cambiamenti importanti, però l'idea che la politica sia rimasta ancorata ai vecchi schemi, che sia ancora una cosa per pochi, una cosa sporca c'è ancora. Insomma, si può fare buona politica nel nostro paese, professore? Partiamo dall'idea che la politica non va aggettivata. Se è servizio per gli altri, per la polis, è per forza buona, perché significa mettere se stessi sullo sfondo. Qui c'è il servizio per gli altri? Oggi lei lo vede? In alcuni sì. In alcuni protagonisti della vita politica c'è certamente anche il servizio per gli altri. Facciamo attenzione e a secondare il male, pensare che la politica sia fatta solo da persone sporche. Non è così. Vanno cercati. Forse ci vuole il lanternino, ma chissà quanti buoni esempi di buona politica abbiamo nelle municipalità, in alcune amministrazioni territoriali e anche chissà a livello nazionale. Magari non sono i protagonisti, magari non sono quelli che sono sotto i riflettori. Sono magari personaggi meno appariscenti, ma certamente c'è della buona politica, questo è sicuro. Una differenza tra, diciamo così, la vecchia politica e la nuova politica? È che parla tanto, comunica tanto a livello mediatico. Ragiona forse un pochino di meno ed è un po' succube del pensiero breve, corto, immediato. La vecchia politica aveva il pensiero lento, lungo, i ragionamenti forse anche noiosi. Erano spesso legati a fatti che duravano nel tempo. Oggi è tutto legato al tran tran quotidiano e quindi ci sta una forza della politica che deve suscitare subito audience, uno slogan, un tweet, un social. E intorno, ahimè, ci sono anche persone avvezze a quel tipo di politica molto contratta. Ci dia una speranza in una marciata di secondi. La speranza dipende da noi, per gran parte, da lei, da me, da chi abbiamo intorno. Se si recupera questo senso civico prima di tutto, prima di fare politica, civico significa parcheggiare la macchina dove deve essere parcheggiata e non sul marciapiede, vedrà che nel giro di pochi anni si riesce anche a recuperare una fiducia nelle istituzioni. Dipende solo dai cittadini, soltanto dai cittadini. Civico significa anche buone leggi, in qualche modo. E di buone leggi, anche qui è un capitolo spinoso, se ne fanno, no? Ne possiamo citare una, una buona legge, ad esempio, per tutti? Di questa legislatura, a me, la legge sul divieto degli spot e sul gioco d'azzardo, mi è piaciuta molto, perché l'idea che si siano vietate quelle pubblicità che incentivano il gioco nelle persone fragili, perché stiamo parlando di persone anziane, pensionati, giovani adolescenti, disoccupati, che talvolta vanno a finire sull'astrico e talvolta oltre, perché hanno sperperato il loro patrimonio. È stata fatta una legge contestata, ovviamente, puoi immaginare anche da chi, che invece vieta, quantomeno, la comunicazione promozionale del gioco d'azzardo. Questa, secondo me, è una buona legge. Grazie, professore. Buon lavoro, alla prossima.